Amici del Portale del Verde, eccoci qui, scusate, prima sono andato in diretta ma ero solo sul canale YouTube, non ero in diretta invece sui nostri gruppi Facebook che sono fra i più partecipati del web, quindi rifaccio l'annuncio che ho fatto poc'anzi nel canale YouTube e innanzitutto vi auguro che voi stiate bene, che stiano bene i vostri cari, le vostre famiglie e che oggi potete prendervi un'ora di tempo, se anche da voi come qui nevica, perché sta nevicando copiosamente e quindi siete in casa al calduccio e avete del tempo, oppure anche se non nevica state seguendo il lockdown, oppure perché siete di riposo, perché il vostro turno di lavoro è già finito, non perdetevi la diretta di oggi. Oggi andremo ad ospitare qui, qui nel Portale del Verde, nel nostro canale, ospiteremo un grande vivaista, un vivaista però particolarissimo, perché non stiamo parlando di un vivaio che produce, non so, alberi da frutto, piuttosto che azalee, piuttosto che orchidee, ma stiamo parlando, si chiama Andrea Casadei, Andrea Casadei produce piante micorizzate, insegnatevi questo nome, micorizzate. Cosa sono? In buona sostanza sono piante cui all'interno delle radici vengono messe, dopo ci spiegherà lui con quale tecnica viene fatta questa operazione, vengono messe queste micorizze che porteranno nel tempo questa pianta, che può essere per dire per esempio un pioppo, piuttosto che una betulla, piuttosto che altre piante, dopo ci dirà lui quante piante ha nel suo catalogo e quante piante possono essere utili per questa operazione, portano nel tempo a produrre tanti tartufi. Ebbene sì, noi possiamo avere una produzione di tartufi nel nostro giardino, nella nostra casa, se avete spazio logicamente, perché se avete un piccolo giardinetto no, ma se avete un giardino, come posso avere io, come puoi avere tante persone, e soprattutto della campagna, che abbiamo degli spazi, possiamo mettere queste piante che nel tempo ci regaleranno degli ottimi tartufi, addirittura c'è la possibilità proprio di scegliere il tipo di tartufo, quindi se io sono un amante del tartufo nero, piuttosto che bianco, o piuttosto insomma delle altre varietà che ci dirà appunto Andrea, vado a scegliere quel tipo di pianta che nel tempo mi porterà appunto a un raccolto di quel tartufo. Quindi state con noi, perché è un appuntamento veramente a cui io tengo particolarmente, perché sono veramente molto molto curioso, ne ho sempre sentito parlare, ma non ho mai avuto la fortuna di parlare con chi ci lavora, con chi le produce. Quindi oggi alle ore 16, non alle 15, alle ore 16, qui dove mi state vedendo. Qui dove mi state vedendo adesso, troverete la diretta. Se volete essere sicuri comunque di vederla bene, senza interruzioni, e poterla rivedere anche nel momento in cui vi siete persi l'inizio, oppure siete tornati dal lavoro e l'avete persa totalmente, la trovate nel nostro canale YouTube, dove vi consiglio di seguirla. Ok? Ci vediamo oggi alle 16, fate girare la notizia. Ciao, buona mattinata!